Luigi torna sui social, ma non vi aspetterete mai chi ne dà l'annuncio Una volta terminata l'esperienza all'interno del talk show di Maria De Filippi, i tronisti possono finalmente riaprire i propri profili social. Dopo Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, anche Luigi Mastroianni è tornato attivo sul suo profilo social di Instagram. A darne l'annuncio, però, è una persona che sicuramente nessuno si sarebbe mai aspettata. Lorenzo Riccardi annuncia il ritorno di Luigi sui social. Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne è tornato sui social. . Quando Teresa Langella ha deciso di riaprire il suo profilo, la comunicazione è stata fatta mediante il profilo Instagram di Raffaella Mennoia. La ragazza, infatti, aveva pubblicato una Instagram Stories dal profilo della responsabile della redazione di Uomini e Donne in cui informava tutti i fan. . Lorenzo Riccardi, invece, ha deciso di utilizzare il profilo della sua nuova fidanzata Claudia Dionigi per avvisare tutti del ritorno del cobra. . E Luigi Mastroianni, invece, come avrà fatto? A dare l'annuncio del ritorno sui social di Luigi ci ha pensato Lorenzo Riccardi. . Quest'ultimo ha pubblicato attraverso le sue Instagram Stories il profilo ufficiale di Mastroianni ed ha detto che non si sarebbe mai aspettato di diventare suo amico. . Tra Lorenzo e Luigi, infatti, non è mai corso buon sangue. Durante la loro precedente esperienza all'interno degli studi di Uomini e Donne se ne sono dette di tutti i colori. All'epoca sul trono c'era Sara Affifella e i due si sono scontrati perché interessati alla stessa donna. . Nuova amicizia tra Luigi e Lorenzo. Una volta che, però, si sono trovati a condividere l'esperienza del trono, le cose tra i due sono drasticamente cambiate. . Con il passare del tempo, infatti, Luigi e Lorenzo sono riusciti ad instaurare un ottimo rapporto che, a quanto pare, sembra si sia trasformato in una bella amicizia. . Per questo motivo, Lorenzo ha voluto dare l'annuncio del ritorno di Luigi sui social taggando nelle sue storie il suo profilo. . Lo stesso Riccardi ha ribadito quanto fosse assurda e paradossale tutta la situazione. . Luigi, dal canto suo, ha ripubblicato la storia di Lorenzo che, attualmente, è ancora presente sul suo profilo. . Mastroianni ha voluto riaprire la sua attività social pubblicando un video molto dolce che ritrae suo fratello disabile in compagnia di Irene. . I due si scambiano dei baci affettuosi. . La clip ha toccato sicuramente il cuore di molti telespettatori. . Oltre a questo video, inoltre, è presente anche uno scatto dove Luigi e Irene appaiono felici mentre si scambiano un tenero bacio, naturalmente non sono mancati i commenti d'approvazione da parte di numerosi fan. .